il corpo è messo subito la vita è una società va dentro la ruota e poi inizia appunto sono 30 anni inizia il conflitto il corpo è un corpo dice il discorso dove c'è il corpo ma non è un indigenere ma non è un indigenere ma non è un indigenere sei? il lab è pronto eh si susali questo è il parasio questo è il resto la parte di inizia d'accordo io straordinarie i